Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo giallo storico, una vincente esplorazione dei labili confini tra verità e illusione e dei gravi rischi che le donne corrono per vendicare coloro che amano. La trama del libro Il circolo segreto dei misteri della scrittrice Sarah Penner, pubblicato dalla casa editrice HarperCollins Italia, è la seguente. Anno 1873, è una notte gelida e la neve cade copiosa sulla campagna appena fuori Parigi, avvolgendo tutto in un silenzio spettrale. Nascosto tra alberi secolari c'è un castello abbandonato, dove sta per avere luogo una misteriosa seduta spiritica condotta da Wadolin Duller, una medium di fama internazionale capace di riportare a galla le inquietanti verità che si nascondono dietro gli ultimi istanti di vita delle vittime di omicidi e risalire così ai colpevoli. Accanto a Wadolin c'è la sua assistente Lena Wicks, una mente scientifica che apparentemente è venuta apposta da Londra per apprendere l'arte dello spiritismo, che in quegli anni sta affascinando la società vittoriana. In realtà, Lena è lì per scoprire come è morta sua sorella Evie, grande appassionata di misteri dell'occulto, ma l'arrivo di una lettera listata al lutto richiama subito a Londra Miss Wadolin. È stata infatti incaricata di fare luce sull'inquietante morte di un suo caro amico, il direttore della società londinese di studi spiritici, un rispettabilissimo club maschile. Quando Wadolin e Lena si presentano in città, gli eventi intorno a loro cominciano a vorticare e a deformarsi e mentre il confine tra lealtà e illusione diventa sempre più sfuggente, le due donne iniziano a sospettare di essere cadute in una trappola. Non sono solo in procinto di risolvere un crimine, ma forse vi sono invischiate loro stesse. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.